Signore e signori, ribenvenuti nella nostra terza stagione con la Master League con la Regina, la mia 69esima Master League qualcosa di eclatante, veramente, non pensavo mai di arrivare da quando c'è la Master a farne 69, incredibile allora, la situazione è che arriviamo da due pareggi giocati bene ma con tanta sfortuna perché abbiamo colpito dai 5 ai 7 legni in due partite incredibile, non mi era mai successo, è la prima volta e va bene così allora, tuffiamoci, tuffiamoci nella nostra, diciamo così, calciomercato finito e andiamo a vedere le italiane allora, Melchiorri va in prestito all'Empoli, attaccante del Parma andiamo a vedere se c'è altri movimenti dell'italiano e la Lazio dà via Daniel Bessa al Manchester City, la Juve prende Alexis Sanchez dall'Inter grande acquisto, mamma mia, mamma mia, grande acquisto seppur già un po' avanti con l'età, però guardate quanto l'ha pagato signori 259.483.300, cioè una cifra, io ho mai visto una cifra così neanche qua per un giocatore ma ne ha di soldi allora, porca puzzola, comunque grande acquisto della Juve l'Inter prende Everson, portiere del Liverpool, presumo che sia il secondo portiere e prende Samudio dal Porto, terzino e portiere il Napoli prende Unai Simon, bel portiere, 16 anni, questo è un bel portiere sapete che qua rinascono perché non è come FC o FIFA che ha una varia ampiezza di giocatori diciamola così anche se non è il termine giusto poi davi in prestito il Don Belè al Nizza, si vede che lo vuol far crescere andiamo ancora più giù, vediamo se c'è ancora l'italiano ah, Joel Robles prende il Toro, 25 anni, portiere Di Marco, attenzione, in prestito dall'Inter, rinato chiaramente e va alla Sampdoria, questa è la cosa unica cosa che non mi piace di pezzo è questa tolto questo, però gioca così e gameplay non si discute Milik, attenzione, in prestito al West Ham dalla Juventus grandi colpi la Juve, eh, comunque, come sempre quando si muove è poco, ma quando si muove fa male andiamo avanti Oiar Zabal, in prestito all'Arsenal Winx in prestito anche all'Arsenal, mamma mia eh, l'Arsenal è una bella squadra quest'anno andiamo avanti e vediamo cosa succede prende Thomas, mediano 24, madonna 101 milioni di euro 290.400 cioè ragazzi, vi rendete conto in due giocatori cosa ha speso? qualcosa fuori dal normale incredibile anche qui, tanti soldi Raffael, trasferimento dall'Atletico di Mineiro all'Inter e Palomino, questo è un bel giocatore trasferito all'Inter grandi acquisti anche dell'Inter Inter e Juve direi che hanno comandato questa chiusura di mercato Svraovic, 17 anni in prestito a Ren bene andiamo ancora più giù Alexandro, prestito a Lione Rodriguez, esterno, 18 anni alla Lazio questo è un buon esterno e l'Inter poi Bono scusate, trasferito definitivamente una cifra anche qua 65 milioni di euro 545.400 madonna ragazzi che soldi anche qui Golda Niga in prestito a Como attenzione Musso portiere va al Tottenham da parte dell'Inter ora io vi faccio vedere le nostre trattative perché sono arrivati dei movimenti nuovi dunque è andato via Nuno Lima è arrivato Garcia giocatore molto più forte un po' più vecchiotto ma con grande esperienza è uno sviluppo ma questo io non lo sto a guardare perché secondo me non vuol dire nulla queste carte non c'entra nulla poi andiamo ancora più giù e abbiamo preso Kozolov Kozolov Calabresi erano sulla scia due squadre non ce l'hanno chiesto lo teniamo lì lo teniamo lì è arrivato Kozolov perché mi serviva un terzino più cattivo un russo guardate che voti che ha 28 anni direte vecchiotto a me serve quindi guardate la differenza di due anni guardate è cresciuto poco Calabresi guardate come arriva Kozolov cioè ragazzi tanta roba poi vabbè Kaduzic che giocherà a sinistra ogni tanto al posto di sinistra e destra cioè può farmi tutte e due certo che se va via Calabresi diventano titolari tra virgolette Kozolov e Kaduzic per il resto niente abbiamo messo in vendita ve lo dico perché ho in mente una cosa abbiamo messo in vendita Richardson ma nessuno ce l'ha chiesto per il momento detto fatto ho tolto questo adesso ci tuffiamo a giocare contro una squadra che sta facendo davvero bene che è la sedernitana 6 punti 2 vinte 0 pareggiate 0 sconfitte 7 gol fatti 2 soli subiti nelle prime due giornate le difese imbattute sono Genoa Napoli la Roma il Brescia la nostra regina e niente la Juventus ha iniziato male i campioni d'Italia hanno iniziato davvero male un punto nelle prime due gare allora io direi signori di andare a fare visto che siamo astento nel poter giocare dall'inizio Santander e Destro Velasco io voglio vedere può giocarmi anche a centrocampo e andiamo a dargli un po' di riposo a OBI scavone mediana non è che ci possiamo mettere Vazzania ma lo lasciamo un centrocampista centrale da aprile camporese che stanno bene Kozlov esordisce a sinistra per adesso Calabresi io lo vado a togliere e ci mettiamo e ci mettiamo Kadusic per adesso lasciamo un attimo fuori Calabresi poi portiamo in panchina abbiamo tanti difensori centrali però secondo me sono troppi Benassi lo andiamo a togliere portiamo Brosco Svali scegliamo un turno di riposo a meno che il portiere Rosati lo facciamo esordire in questa nuova Master League nuova di continua di continua Master League e quindi Benassi così bene bene vediamo se riusciamo terzini alti chiaramente sempre per adesso Santander contropiede a Santander destro signori facciamo l'ancoraggio su Boloto e vediamo come andrà a finire questa partita da controllare ancora un attimo le posizioni sinistra destra qui a centrocampo ecco lo sapevo ok e ok dai forse coraggio vediamo di vincere la prima partita anche se andiamo a affrontare una squadra forte perché quest'anno stanno giocando veramente tutti bene giochiamo con la nostra maglia mettiamo questa dai mettiamo questa qui bene tutto pronto andiamo a farci questa gara granillo tutto esaurito e si va in campo Regina Salernitana si parte con la terza giornata di questa di questa nuova master league con la regina la 69esima mamma mia master league tutto pronto tutto pieno a granillo e quindi sarà una gara da mille la notte anche se cinque anni solo di differenza dalla fondazione delle due squadre la regina è più vecchia si va bene impossibile caricare gran turismo va bene mettiamola così eccolo qua Valzania ha fatto una nuova e buona impressione no è colpo scusate ci assomiglia però con i capelli va bene si parte ragazzi denti stretti rientra a destra meno male andiamo Valzania attenzione a via pallano indietro d'aprile subito l'appoggio camporese il nostro giolli cadusi attenzione tiene lì il pallone prova subito lo scambio con Velasco lo ignora Velasco Valzania pallone in mezzo scavone bravo a non darla davanti d'aprile avanza e sbaglia tutto di A Gori lancia in mezzo camporese grande bravo Velasco pallone a cadusi si gira si gira grande grande cadu pallone adesso in mezzo a Velasco l'argentino la palla verso scavone chiama e riceve palla volo tutto il portoghese il pallone in mezzo santander carica il tiro deviato e la palla di shoot vediamo se riusciamo a toglierci la paregite rilancio verso via c'è da aprile colpo di testa la palla vaga e la ricoglie Gori lancio lungo scavone candreva attenzione a lui candreva subito il piede davanti di cattiveria di d'aprile scavone allora il pallone da questa parte per Velasco che può avanzare Vela palla in mezzo Voloto Voloto il pallone verso destro che deve solo controllarlo destro l'imbucata per Santander l'angola palo ancora ma non ci credo ragazzi sono 7-8 pali in tre partite ma non ci non è normale cazzo tra dove hanno il pallone in avanti per Bonazzoli attenzione cadusi ci deve andare a chiudere poi c'è Radovano e ci arriva subito la regina Voloto niente non lo chiudiamo la palla in mezza via parte il tiro la parata di Rosati madonna ancora un palo ragazzi non ci credo non ci credo non ci credo incredibile marcatura uomo candreva adesso la toccherà corta per Radovano attenzione la palla in mezzo sfugge a Cadosi il pallone Velasco poi Gori Velasco gliela toglie destro non è abbastanza veloce e allora la palla da l'altra parte per Candreva controlla proverà a metterla in mezzo da aprile ancora la parata di Rosati mamma mia ragazzi togliamoci da qua Camponese allunghiamo sta squadra forza Velasco 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 pallone diretto d'esterno per destra che riesce a andarla a controllare la fa sua poi appoggia centrocampo subito il pallone a volato che può andare buono carica la sassata la parata di shoot quanto è difficile ragazzi provate a farle di continuo le master poi vedete come diventa difficile giocare Valzania ancora l'appoggia Santander gioca bene la regina ma c'è tanta sfortuna eeeh qui c'è un gran fallo ma si ricomincia da capo Valzania ancora la palla da questa parte chiama riceve Colozon si gira appoggia indietro Scavone Scavone lo carica per Voloto Voloto la palla in mezzo poi ancora la definata destra destra e andiamo cazzo è sempre pari pari traverse 1 a 0 Mattia destra Mattia destra Mattia destra ancora 1 a 0 ma ma che cazzo grande azione grande Voloto qua che palla che gli ha dato all'indietro poi lo scavino in mezzo e il batti a secco come una lavatrice senza acqua ma ancora 1 a 0 calma però calma Milena c'è destro subito che va a chiudere Santander qua a centro campo attenzione ancora lo vato la palla da questa parte chiudiamo su Candreva bravo attenzione congo lancio ancora per il genio della serenitana Candreva è forte palla allungata di Candreva la va a mettere in mezzo esce Rosati con i pugni scavone bravissimo subito Valzania che deve andare a chiudere niente Kolozov ancora niente c'è Voloto Voloto che la ruba e andiamo se l'allunga se l'allunga la fa ripartire alla regina Voloto tutto in mezzo Voloto Voloto palla verso Santander che si muove bene una finta lo scarico in mezzo ancora Voloto da questa parte mamma mia ragazzi Kaduzic Valzania Kaduzic madonna non c'è spazio allora si ritorna a costruire Valzania Valzania la palla in mezzo a Voloto ancora vatti a destra controllo parte la girata matti a destra matti a destra mamma mia ragazzi senza di te non posso stare c'è niente da fare che giocatore ma cosa ha fatto Voloto qua ancora una volta dai sui piedi gran controllo e poi la volé ed è 2 a 0 mamma mia era ora finalmente calma il sangue freddo però Vilena Vilena perché PES è imprevedibile Cepitelli Lovato e Kong corre come un matto Santander Gori Boinen Boinen attaccato messo giù Vilena Vilena attenzione a non fare falli poi Valzania non è fallo arbitro non è fallo questo ma smettila dai ma smettila dai ha toccato il pallone dai rivediamo ha preso la palla dai ma non veniamo a raccontarci le cazzate 2025 calcio moderno di merda Candreva va a metterla in mezzo Rosati che presa alla Batman un uomo ragno Scamone subito a Santander che si può andare a girare Santander mette in movimento destro la palla scivola dai piedi della difensore della sanità Candreva si è spostato da questa parte vedete come cambia anche la CPU il suo modo di giocare cerca di non dare punti di riferimento ancora e Kong dia dia la parata di Rosati mamma mia Velasco 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 attacca ancora non molla di Lena e allora è scioccato si già la difesa il pallone verso dia mamma mia ragazzi che tenebre Rosati la palla verso Kolo la mette giù Kolo andiamo Kolo ma finisce il primo tempo buono 2-0 Regina doppietta di destro tanta roba allora andiamo a togliere Valzania e mettiamo Lombardi mettiamo Obi mettiamo Benasser allora andiamo a toglierci facciamo una cosa cambiamo il 3-4 allora Velasco mettiamo Benasser Valzania mettiamo mmm Valzania mettiamo Obi Santander non mi sta piacendo dentro Richardson mettiamo il brasiliano anche se ho in mente di fare un calcio mercato molto diverso e si parte 2-0 Regina Richardson sul mercato 26 milioni di euro chiesti per lui vediamo se arriverà qualche offerta per gennaio attenzione pallone ancora bloccato c'è Benasser che lo porta subito via e può andare galoppa al cavallo destro destro la palla per Richardson deve solo controllarla di velocità ancora Richardson bravo la palla ancora in mezzo e niente sempre la regina con shoot Cepitelli pallone in mezzo per Gori allarga per Hekong Canreva Gori lancio lungo di Gori da aprile non controlla tensione da aprire parte il tiro di Hekong mamma mia Kozov bravo no Scavone fa muro crea una breccia Scavone allora voto gran palla ancora qui e poi abbiamo ancora Scavone di forza verso Richardson che si gira a parte il tiro del brasiliano niente da fare parata di shoot pallone in mezzo e cong ancora Gori Radovanowicz 50 e 6esimo obi deve arrivare a chiudere tutto devi a questo pallone garantito voluto benassera ancora obi che si può girare d'esterno bellissima verso destro che adesso può andare in cerca della pipetta destro converge carica il tiro e l'ha parata di shoot quanto è forte quanto è forte questo attaccante era leggermente acciaccato le prime due gare ma quando c'è lui l'attacco cambia attenzione a Boynen si allarga benassere per impedire la volata sulle fasce arriva obi col corpo grandissimo poi sbaglia l'appoggio allora ancora Scavone su Gori fermato niente c'è calcio di punizione la voglia di fare i tre punti ti porta a questo andiamo alziamoci alziamoci la palla in mezzo la mette giù e gliela toglie Scavone grandissimo la palla adesso verso destra c'è Rissas si deve girare si deve girare il brasiliano una finta e poi però qui è fallo albitro e camporese grande per Rosati subito con le mani verso Kaduzic che è un po' lento però si deve un po' tirare fuori un po' le palle questo giocatore ma non ha controllo sto giocatore qua porca troia d'aprile obi palla a voloto si alza male il centrocampo della serenità da destro converge per Rissas spalla alla porta si deve solo andare a girare mamma mia è una ciofeca sto Rissas porca troia Gori pallone lungo eh grande dia occhio bravo camporese che non ha bocca la finta Bonazzoli poi Boinen c'è Kaduzic attacca Vilena commette fallo palla in mezzo dice calcio di punizione porca troia eh così e così allora il pallone di Candreva attenzione verrà messo qui in area di rigore Boloto la toglie mamma mia Gori c'è obi eh sono montato da questa lungo ganna rosati con la palla a Colozof può avanzare ma sbaglia il passaggio palla adesso da aprile Boroto scavone palla in mezzo Colozof gran passaggio qui eh fuori gioco fuori gioco fuori gioco dai ti vinciamo la prima cambio della serenità entra Christoffersen Christoffersen 2 a 0 andremo a 5 punti con questa vittoria lancio lungo c'è sempre Camporese quanto è diventato forte di testa attenzione qui e obi chiude tutto ma qui si inventano dei falli questo gioco delle volte che guarda proprio come nella realtà e tante volte che andremo a mettere in mezzo esce con i piedi niente non c'è nessuno allora Richardson devi stare davanti pallone in mezzo chiude e subito obi Richardson Richardson c'è scavone che va c'è scavone che va niente gliela dà proprio male niente pallone c'è pittelli palla lunga per gore ancora attenzione qui novato ottantesimo sembrerebbe fatta questa partita ma ancora presto per dirlo allora voto l'appoggio per obi solita trama Richardson Richardson può andare Richa la mette lì per destro che può scattare carica al tiro niente palla messa in angolo rimessa laterale e c'è il mozzo buonazzoli entra l'ex Cagliari Farias Kadusic ancora la palla cambia tutto camporese da respiro la manovra da aprire di prima scavone pallone in mezzo adesso c'è volato che si deve girare riesce a darla a destra che controlla a destra carica la bomba fuori mamma mia ragazzi questa è l'attaccante ma Richa son tutta roba lovato ceppitelli boinen pallone a boi allungato crystal sense attenzione dobbiamo chiudere bene occhio occhio mamma mia scavone il tiro rosati poi camporese da lontana Benasser voluto grande azione qui e destra un po' preso in controtempo si lamenta leggermente ma non è che può sempre andarti bene Vilena fermato bravo Benasser che adesso può rimpostare c'è il pallone lungo ma Richa son proprio non entra negli schemi questo giocatore niente da fare Vilena io lo svincolo ci metto poco allora destro destro la palla per Benasser che può andare bene vieni Riccia vieni Riccia che la chiudiamo vieni vieni e tira fuori Benasser incredibile mamma mia 2 a 0 abbiamo vinto una buona gara invece di venire al centro si allargava sotto ma vai a cagare e per carità andiamo avanti risultati classifica la regina batte finalmente il gol 2 a 0 Sanitana vince il Milan vince la Sparta vince l'Inter nel match contro la Lazio pareggia la Roma vince il Brescia sul Torino 1 a 0 vince il Bari con la Fiorentina torna la vittoria la prima di quest'anno la Juventus 3 a 1 con l'Udinese Bologna e Samporia 4 a 0 Samporia continua a perdere Napoli e Genoa 2 a 0 la classifica Napoli 9 punti in 3 partite Udinese Genoa Sanitana 6 punti Brescia Inter Roma Regina 5 Juventus Bologna Milan e Spalla 4 Torino Bari Lazio Fiorentina a 3 punti Spezia Lecce 3 punti Cagliari in punto e la Samporia 0 punti in 3 partite incredibile questa Samporia proprio non riesce a decollare bene andiamo a leggerci la prossima giornata tanto scusate perché con il lavoro siamo un po' in emergenza stasettimana bene ok la prossima sarà con la Spalla poi avremo Inter e Roma mamma mia ragazzi messaggi cosa ci dicono nazionali non mi interessano più benissimo allora raga io lo so che volete vedere anche giustamente la Champions League perché è giusto andiamo a vedere le fasi girovi dai andiamo a vederci le vostre italiane perché ci sono la Juventus guida a 3 punti il gruppo D il Napoli un punto attenzione e l'Inter 3 punti bene questo per quanto riguarda la Champions Europa League facciamo più in fretta di vedere altre volte c'è poco da commentare andiamo a vedere le italiane anche in Europa League Brescia 3 punti fa sempre bene il Brescia in Europa Bologna un punto e la Lazio 3 punti queste sono le 3 che vanno in Europa League bene detto fatto detto detto ragazzi io vi saluto vi do l'appuntamento alla prossima gara che sarà con la SPAL a domani ciao a tutti